Arriva Natale e si chiude il 2015 ed è tempo di bilanci e del convivio apposito per la Banca del Valdarno. Ecco l'analisi di un anno assolutamente sopra la media rispetto a tanti altri istituti per numeri e valenza. Chiudiamo con risultati migliori rispetto a quelli che era stata la programmazione e quindi rispetto alle attese e risultati oggettivamente importanti. Faccio qualche esempio fra quelli più significativi. Noi chiudiamo rispetto a un anno fa, dati di novembre, abbiamo un incremento sulla raccolta da clientela di oltre 25 milioni. Ancora più significativo è l'andamento degli impieghi che seppur non in maniera molto insistente ma hanno un andamento positivo. C'è un più rispetto a un sistema bancario che ancora a novembre da oltre tre anni continua a manifestare una regressione, un segnale negativo. Nello specifico erogati circa 45 milioni di euro alla clientela. I numeri ci consentono poi di vedere un bilancio che avrà un utile in linea forse migliore di quello che era atteso e direi soprattutto ci consentono di avere un posizionamento su due elementi, su due ambiti molto molto importanti del fare banca e del bilancio bancario che sono la copertura dei crediti deteriorati e gli indici di patrimonializzazione. Entrambi questi indici crescono rispetto al 2014, sia la copertura dei crediti deteriorati, sia gli indici di patrimonializzazione e sono indici comunque superiori alla media del sistema bancario. Appuntamento poi per questo Natale il 22 dicembre alle 21 all'Oppiano di Incisa con un concerto per soci, clienti ed amici. Abbiamo chiesto al maestro e tenore Luca Canonici, famoso a livello internazionale, di poterci aiutare in questa cosa. Faremo un concerto degli auguri, lo facciamo all'Oppiano dove abbiamo ormai la nostra presenza, dove siamo protagonisti anche soci della cosiddetta economia civile, di tante realtà del mondo dei focolarini. Nell'auditorio di Loppiano il 22 dicembre alle ore 9 facciamo questo concerto e secondo me ha delle connotazioni simboliche perché chiamiamo i soci a partecipare a un concerto dove Luca Canonici coordinerà e canterà insieme a tante corali del Valdarno. La speranza è ovviamente poi che il 2016 sia l'anno della ripartenza per l'intero sistema economico italiano.